e buongiorno ragazze oggi vorrei parlarvi dei guanti guanti che uso vi faccio vedere un pochettino i guanti che ho allora prima di tutto ho questi qua di monouso in lattice che sono quelli della copp questi qua li uso quando uso l'olio che si macchiano dopo li devo buttar via uso questi qua praticamente il prezzo sono 50 guanti qua il prezzo sarà più meno 3 euro 50 ecco che sono buonissime queste qua faccio vedere non è tu queste sono fatte così guardate e si sente molto bene tutto quello che tutto quello che prende anche in mano si sente molto bene con questi quanti qua allora questo è uno allora un altro guanto che ho che adesso lo uso in cucina questi qua sono di veleda sono già usati ma io li faccio vedere sono fatti così ormai sono diventate anche un po gialle perché da qualche settimana che li uso e questo costerà più o almeno due euro questo quanto qua allora un'altra volta il mio guanto un po quello che mi piace un po di più sono questi qua questi sono della sport ex contro dentro sono così rosa questi qua costano aspettate un attimo che non dico subito un guante sponte costo 1 euro 65 e anche questi li avete già visto in tantissimi video che quanto questo e anche questo mi piace moltissimo perché anche con questo riesco a toccare a sentire le cose che ho in mano sentire un po meglio perché c'è anche un po di grip qua allora questa un altro allora un altro guanto che ho costato che ve l'ho fatto vedere tantissime volte sono questi qua questi sono quelli bicolor adesso non lo tiro fuori perché ragazzi io avevo fatto una scorta di questi quanti qua e ho tirato via da queste bustine qua non fatelo oggi vado a tirare fuori i guanti ragazzi guardate qua hanno preso non so se ha preso un po d'acqua guardate che lavoro si sono tutti rovinati anche qua allora io direi che quando compriamo i guanti bisogna che li teniamo dentro queste buste qua perché se no va a finire come questo guanto qua allora un bel casino un altro guanto che ho costato è sempre di stessa marca che adesso l'hanno fatto anche a una qualità superiore speriamo è un peccato è che ho rovinato tutti questi guanti qua ma questo lato dopo la tengo dentro la bustina e anche questo mi sembra un guanto abbastanza buono questo hanno proprio il grip un po più grande ecco anche qua anche questo non mi dispiace forse sono un po più tra i due forse sono un po più più rigidi questi qua bene ragazzi questi i guanti allora evitivo anche i prezzi il guanto che ha fatto questa fine qua vabbè sarà stata anche un po' il mio ragazzi però costa 1,39 euro però anche se prendi un po' d'acqua mi sembra una cosa veramente mi sono accorta oggi non ho parole costa 1,39 euro allora questo qua invece che l'hanno fatto adesso speriamo che sia un po' migliore mi piaceva perché era un bicolore era più carino però ha fatto quella fine lì non so se ha preso l'acqua perché l'ho tenuto in bagno ha fatto la muffa praticamente questo qua invece costa 1,75 euro questo guanto qua ed è questo sempre di stessa marca pubblica bene ragazzi capitano anche queste cose qua niente adesso li tengo dentro la busta lo li scrivo via le buste perché non vorrei che facesse la stessa fine di quegli altri lì e niente spero che il video vi è piaciuto ragazzi è stato molto breve però vi volevo aggiornare un pochettino spero che il video vi è piaciuto e ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutte ciao a tutti